Sul fatto che si spara, a questo punto la priorità è unica, a Napoli come altrove, perché si spara anche in altre parti, è più controllo del territorio. Il controllo del territorio, nonostante gli sforzi importanti, in alcuni casi enormi, del personale delle forze di polizia, non è sufficiente perché sono organici inadeguati. A questo punto il punto diventa questo, siccome il governo si è appena insediato ha un orizzonte davanti largo e lungo, se vogliamo davvero dare una risposta sulla sicurezza ci vuole più personale e ai comuni consentire di sbloccare le graduatorie e impegnare più polizia municipale, altrimenti facciamo solo propaganda, le volanti sul territorio sono poche, c'è la sparatoria ma c'è anche quello che ho visto ieri sera al basto, c'è un impegno importante delle forze dell'ordine, però guarda caso i festivi non si vedono le macchine, perché non si vedono le macchine? Perché non c'è personale a sufficienza e siccome la criminalità non è che opera i giorni non festivi e i giorni festivi va a riposo, lo sanno pure loro che non ci sono le volanti i giorni festivi e quindi c'è un rischio grosso, questo è il tema, quindi da questo punto di vista diventerà una richiesta continua che il sindaco di Napoli da oggi in poi farà al governo della Repubblica Italiana, come ho fatto agli altri governi, ma siccome questo governo mi sembra particolarmente incisivo sulla volontà parole di incidere sulla sicurezza ci attendiamo risposte di questo tipo, concrete e non parole. Per me c'è il Senato di essere stato al basto ieri, posso chiedere qualcosa di più di impressioni? No, perché no, all'uso del fatto che oggi hanno annunciato un passaggio per la Verona No, ma noi stiamo facendo tantissimo, ho sentito il prefetto ieri sera tardi, ci siamo sentiti stamattina, ma il comune davvero in modo generoso si è fatto carico di tantissimo, quando potevamo scaricare ogni giorno e possiamo scaricare ogni giorno sul governo, sullo Stato, sul prefetto e su altri, non lo facciamo, perché siamo consapevoli che tutti vivono momenti di difficoltà, che le risorse sono poche, ma Napoli si sta cercando di fare davvero tanto e il comune, devo dire, sul basto ha messo un'azione come su altre parti della città che mai era stata messa in campo, l'avete visto i dati statistici? Controllo del territorio, noi impieghiamo ogni giorno oltre 40 unità della polizia municipale, i controlli nei locali, le forze di polizia fanno tanto, il problema principale sono i festivi, mancano i mezzi, quindi mandassero più mezzi e sono convinto che al basto come a San Giovanni, a Forcella, come ai quartieri spagnoli, dove le notti continuano a esserci scorribbande, basta il controllo del territorio, è molto semplice, non mettiamo in mezzo in questo momento altri discorsi, perché io credo tra quello che stanno facendo le associazioni, le scuole, il terzo settore, i cittadini, il comune, le municipalità, al netto che nessuno è perfetto, però vi assicuro che sta facendo il massimo, anzi oltre il massimo, lo stanno facendo anche le forze di polizia, però la coperta là è davvero corta, quando io vado in comitato e mi sento dire che in alcune parti della città di notte c'è solamente una volante, parliamo di quartieri molto grandi, non è una questione di buona volontà, di tizio di buona volontà di sempre, perché lo Stato lascia soli chi sta in prima linea, lascia soli i sindaci, lascia solo le forze dell'ordine, noi ci attenderemo, adesso un po' di serietà finalmente su questo, basta propaganda, le campagne elettorali sono finite, noi siamo disponibili a dialogare, a cooperare, se continuiamo con le passerelle le lasciamo a loro, perché le passerelle politiche per cercare, come dire, di alimentare le tensioni sociali sono molto pericolose, molto pericolose in tutte le città, in Italia e a Napoli in particolare, quindi... Il prefetto, tu hai parlato della questione basta in questo momento qua, perché... Il prefetto ho scritto un messaggio al prefetto ieri sera, l'ultimo messaggio mandato al prefetto che era quasi mezzanotte, e mi sono anche scusato, perché domenica sera scrivere a mezzanotte rischia insomma di essere... però io faccio il sindaco H24. Hai fatto un giro e ti sei reso conto delle problematiche... Ma ne conosco, c'è bisogno che faccio un giro, qua c'è chi fa i giri per fare le passerelle e c'è chi fa il sindaco ogni giorno H24, mattina, pomeriggio, sera e notte e, come dire, lo fa stando sui quartieri, stando sui problemi, ascoltando i cittadini, incontrandoli, leggendo mail, questo è il tema. Qua nessuno, come dire, ha la bacchetta magica su questi temi, ma posso essere certo che sul vasto come altrove si sta facendo in città il massimo e vi assicuro anche che Napoli è un esempio di cooperazione istituzionale a livello italiano, quindi non c'è lo scaricabarile, non c'è il conflitto tra istituzioni, almeno a livello cittadino la cooperazione delle istituzioni è davvero esemplare, ce lo riconoscono tutti.